buongiorno a tutti benvenuti su investire.biz ben ritrovati come di consueto la rubrica caffè mercati un buon inizio di settimana a tutti quanti come ogni lunedì vi ricordo che questa sera alle ore 18 andiamo subito nella sezione appuntamenti trovate il webinar del lunedì in mia compagnia luca di scacciate quindi ci vediamo questa sera alle ore 18 potete iscrivervi l'evento è come sempre gratuito detto ciò andiamo subito sulla piattaforma del broker kimura trading e iniziamo a parlare di mercati con s&p 500 come detto la settimana scorsa dobbiamo andare a commentare quella che è la chiusura settimanale chiusura settimanale cosa vediamo la scorsa settimana guardate la candela della scorsa settimana una candela con un ombra rialzista molto importante che si è creata su un livello chiave che abbiamo discusso di cui abbiamo discusso più volte cioè a livello di 4.600 punti una chiusura del genere non è per niente positiva quindi facciamo molta attenzione ad aprire nuove posizioni rialziste perché per esempio se scendiamo sul time frame zone all'ero che vedete qui questa potrebbe essere questo potrebbe essere un bel segnale rialzista vero ok questo potrebbe scusate un piccolo segnale di inversione quindi il trend ribassista di brevissimo termine potrebbe essere finito e potrebbe ricominciare a riprendere la cavalcata rialzista partita dai minimi in area 4.150 però come detto dobbiamo commentare la chiusura settimanale perché una candela come questa è una candela comunque di incertezza che va a crearsi su delle resistenze chiave e beh è chiaro che in questo caso prima di aprire delle nuove posizioni rialziste sull'indice più importante al mondo S&P 500 dovremmo chiaramente attendere una seconda rottura sul time frame giornaliero che abbiamo visto prima al di sopra del livello di 4.600 punti quindi facciamo molta attenzione ad aprire nuovi long per quanto invece riguarda nuovi short possiamo attendere che cosa per esempio la rottura del minimo di venerdì quindi siamo tornati qui sul time frame giornaliero attenderemo la rottura al ribasso del livello della zona supportiva compresa tra 4.510 4.500 e 4.500 ecco una rottura di questo di questa zona supportiva potrebbe aprire la strada a nuovi ribassi in quel caso valuteremo degli short quindi per dei nuovi short aspettiamo la rottura dei 4.500 punti mentre per nuove posizioni rialziste è meglio attendere la rottura rialzo un'altra volta della soglia dei 4.600 punti andiamo avanti però perché dobbiamo parlare anche di petrolio petrolio che si avvicina va sotto la soglia dei 100 siamo proprio in questo proprio in questo momento stiamo testando il livello chiave dei 100 dollari al barile attenzione perché un avvio ribassi se i prezzi potrebbero continuare la sua la loro discesa fino in area 95 questo è il mio obiettivo per quanto riguarda il petrolio come abbiamo detto anche la settimana scorsa però dobbiamo cercare di studiare anche i time frame inferiori e quindi ci spostiamo qui sul time frame orario come possiamo vedere abbiamo dei minimi via via decrescenti prendiamoli da qui scusate ho sbagliato prendiamo iniziamo a prenderli da qui questi minimi questi massimi decrescenti scusate mentre i minimi sono sempre gli stessi in area 98 bene una rottura del livello di 98 ci avrebbe aprire delle nuove posizioni con target in area 95 mentre per dei nuovi long attenderemo la rottura rialzo dei 150 barra 101 dollari al barile andiamo avanti perché dobbiamo andare a vedere anche il gold gold che siamo sul time frame a 15 minuti gold che in mattinata da un bellissimo impulso rialzista un bel segnale che cosa dobbiamo attendere dobbiamo tenere il ritorno sulla zona di rottura di questa linea di tendenza tra l'altro zona di rottura sulla zona di rottura troviamo delle candele ad alta volatilità che aprono sui minimi e chiudono molto vicino ai massimi di seduta qui sul 15 minuti e quindi quella che era la resistenza ora potrebbe fungere da supporto anche perché questa zona è stata rotta con molta forza dalle candele di questa mattina a partire dalle ore dalle ore 8 quindi ogni ribasso può essere può creare un insomma un'occasione un'occasione di acquisto come obiettivo chiaramente non solo per oggi ma anche per i prossimi giorni insomma ci attendiamo un 1950 dollari per onza ci sono come al solito anche dei livelli intermedi di cui su cui dobbiamo sempre prestare attenzione per esempio quello dove siamo adesso 1932 è una zona resistenziale lo vediamo proprio in questo momento mentre stiamo parlando i prezzi stanno facendo fatica a superare questo livello però in caso di entrata longa 1926 andremo a spostare lo stop loss in pareggio intorno alla soglia dei 1932 beh dai ragazzi direi che per oggi abbiamo visto tutto noi ci vediamo questa sera al webinar del lunedì delle ore 18 buona giornata e buon trading a tutti ciao 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 Grazie a tutti.